Ormai anche in Abruzzo il maltempo la fa da padrone. Neve un po' dovunque. A Cappadocia, in provincia dell'Aquila, ci sono circa tre metri di neve. Ho chiesto l'intervento della protezione civile, riferisce a Lanza il sindaco Lorenzo Lorenzin, e è venuta oggi a fare il sopralluogo perché se le perturbazioni e le voce dovessero continuare nei prossimi giorni come è prevista, noi abbiamo bisogno di una mano. Da soli, con i nostri mezzi, non ce la facciamo. Cappadocia è un paese con poco più di 500 abitanti a 1108 metri d'altitudine nella Marsica al confine con il Lazio. Una copiosa nevicata ha interessato il comune montano, in particolare nella località civistica di Camporotondo, una delle tre frazioni. In paese, riferisce ancora il sindaco, ci sono punti in cui la neve ha raggiunto tre metri di altezza. Per portare medicinali e viveri, soprattutto nelle case degli anziani, sono intervenuti i carabinieri, che hanno raggiunto i punti più imperbi con la motoslitta. La amministrazione comunale ha messo in campo risorse straordinarie, sei mezzi e una decine di uomini che, sottolinea ancora il sindaco, hanno spalato la neve a mano. È una nevicata eccezionale e le nostre risorse sono tutte in campo, con un piano neve e misure ancora più rafforzate. Quindi abbiamo chiesto alle istituzioni, in particolare alla protezione civile, di starci accanto per assistere gli abitanti che si dovessero trovare in difficoltà. A proposito degli impianti di risalita gestiti dalla società Bucaneve, conclude il sindaco, riapriranno il giorno 18, a questo punto con buone possibilità di recuperare, anche se in minima parte una stagione che a causa del lockdown sarà comunque una stagione negativa.